Bella raga dal vostro Zedcastle, welcome back alle video recensioni del Trono del Re come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale youtube di Lega Nerd di attivare la campanellina e non perdervi mai neanche un contenuto ovviamente poi ricondividete il video, mandate messaggi ai vostri amici, lasciate like, commenti eccetera per alimentare la community di Lega Nerd allora il fumetto di cui vi parlo oggi, o meglio i fumetti un tema molto caldo visto il periodo di trasposizioni Jupiter's Legacy di Mark Millar e Frank Quitely, boom! allora ragazzi Jupiter's Legacy è arrivato su Netflix e ha fatto anche parlare parecchio di sé anche se la serie si è dimostrata un pochino divisiva tra pubblico e critica questo lo potremmo definire come nei primi episodi della serie so sempre meglio i fumetti il format dove raccontiamo le opere che hanno fatto da ispirazione per alcune trasposizioni e che 99 su 100 sono sempre migliori vabbè dai dai si scherza ma in questo caso la cosa è assolutamente applicabile il fumetto del remida dei comics ovvero Mark Millar che conoscete benissimo per Kick-Ass, Civil War, Old Man Logan, Kingsman eccetera è un titolo assolutamente interessante anche se non certo il più famoso o meglio riuscito dello scozzese però c'è Frank Quitely ai disegni che è in stato di grazia vabbè quando mai non lo è stato che veramente svolge un lavoro impeccabile, eccelso ma su questo ci arriviamo dopo i due volumi di Jupiter's Legacy, eccoli qua ci raccontano una storia di supereroi su due livelli da un lato esamina il punto di vista dello scambio generazionale tra genitori che hanno conquistato dei superpoteri eccezionali attraverso un'impresa che tra sogno e realtà li trasformerà nei primi supereroi dell'umanità quindi con grandi sacrifici, con grande abnegazione e i loro figli che quei poteri li hanno ereditati, un tipo geneticamente e che non hanno la benché minima intenzione di seguire i rigidi dettami, i morali e le responsabilità dei loro vecchi ma esamina anche il mondo, più specificatamente l'America attraverso due crisi specifiche ovvero la crisi del 1929 in cui in brevissimo tempo gli States finirono in ginocchio a causa del crollo di Wall Street che poi fu l'inizio della grande depressione che esasperò il proibizionismo e quella del 2008 che ben conosciamo e che molti di noi purtroppo hanno anche vissuto sulla propria pelle come sempre l'intuizione alla base del soggetto da parte di Miller è brillante e accattivante ci troviamo Sheldon Samson, Utopian l'uomo che ha condotto fondamentalmente i suoi familiari sull'isola misteriosa che ha concesso loro i poteri con sua moglie Grace, il fratello Walter, l'amico George Hachin e ci sono i figli come Brandon e Chloe Samson che non riescono ad accettare la rigidità dei genitori il primo è un mascalzone totale del tutto disinteressato alle attività dell'unione di supereroi e che come un lato oscuro tremendamente pericoloso la seconda Chloe è una ragazza fragile in cui le pressioni sociali e morali della propria famiglia l'hanno portata a fuggire ad essere poi dipendente da sostanze stupefacenti e non solo ecco questa è la prima grande differenza con la serie tv Brandon che su Netflix è un bravo ragazzo che vuole solo accontentare il padre essere accettato ma è frustrato dal suo costante essere messo alla prova è tacciato in fallimento mentre nel fumetto è uno stronzo senza pari cioè è arrogante, è pronto a tutto pur di ottenere potere Chloe invece e la sua relazione proibita è una crisalide in attesa di sbocciare impaurita ma ricolma di positività poi c'è anche tutta la questione della prima crepa nell'unione che c'è stata quando uno degli eroi originali ha tradito ovvero George Hachin, ovvero Skyfox colpevole di essersi distanziato dal codice morale di Utopian e dal suo essere al servizio del mondo e non volersi ergere al di sopra di esso correndo molto con la narrazione forse anche un pochino troppo per quanto mi riguarda ma ormai è diventata quasi un'abitudine per Millar i due volumi scorrono rapidi pochi flashback riguardo all'ottenimento dei poteri cosa invece che nella serie tv occupa quasi metà del minutaggio degli episodi ma poi c'è Jupiter Circle che è il prequel che parla proprio di tutta la carriera dei supereroi negli anni 40, 50, 60 ci sono però due diverse attitudini nel primo volume si costruisce un po' il grande colpo di scena che porta al ribaltamento dei ruoli in qualche maniera mentre il secondo forse è quello più tradizionale action se vogliamo quello della rivincita dei nerd o meglio la rivincita di quella generazione giovane che proprio nel primo volume era stata condannata e accusata io non ho amato la serie tv l'ho trovata eccessivamente allungata su alcune parti anche se ne ho apprezzato le varianti rispetto a fumetto però il fumetto pur non brillando particolarmente per costruzione colpi di scena eccetera riesce a fare quello che a Miller viene sempre bene cioè catturare l'attenzione con un soggetto forte personaggi assolutamente ben delineati e quel senso strano di déjà vu con un po' di varianti che è sempre efficace e in questo caso per esempio le similitudini con il The Authority di Miller post Warren Ellis ci sono assolutamente tutte il valore aggiunto però di questo fumetto è Frank Quitely che è una roba veramente incredibile con i colori di Peter Doherty e San Diego il disegnatore scozzese che già ci ha fatto sognare con opere come All Star Superman che vi ricordo essere probabilmente una delle migliori storie di Superman iscritta è superbo cioè pochi come lui riescono in qualche maniera a coniugare momenti intensi, emozionanti, intimi catturando le espressioni dei volti e quelli più devastanti di combattimenti assolutamente larger than life utopian ma anche Walter, Brandon, Chloe tutti gli altri supereroi sono statuari monumentali nei fisici scolpiti eccetera ma sono anche assolutamente umani fragili, malvagi, spaesati cioè si intuisce proprio tutta la personalità di personaggi fumetto in serie tv pur presentando alcune scene assolutamente identiche però si discostano parecchio in particolare i personaggi di Brandon e Chloe come vi ho detto e anche lo stesso Hatch ma soprattutto nello spirito cioè la serie tv è più tradizionale nell'affrontare il tema dei super e il codice morale di non uccidere con il relativo ricambio generazionale la difficoltà a relazionarsi tra i due step di generazioni diverse mentre il fumetto si concentra sul patto di non intervento dei super cioè potrebbero conquistare il mondo con un colpo solo e sistemare tutti i problemi economici e sociali in pieno stile authority ok ma non lo fanno chi lo fa viene tacciato da supercriminale come skyfox e quindi diventa tabù quindi l'opera veramente alternativa nel panorama dei supereroi in questo caso è da ricercare nel fumetto e non nella serie tv che in qualche maniera cerca di tenersi su terreni un pochino più sicuri e che purtroppo a livello estetico non riesce nemmeno lontanamente ad avvicinarsi alla magnificenza visiva di quightly peccato perché con la serie tv si poteva fare decisamente di meglio ma il fumetto anche se non è a livelli magari di The Ultimates o Superman Red Son giusto per citare due titoli molto importanti dell'autore rimane un'ottima visione sui super alternativi e contestualizzati in un mondo vero, reale quello delle crisi economiche veramente comunque i due volumi li potete trovare costano 18 euro cada uno pubblicati da Panini Comics poi potete trovare anche Jupiter Circle che è appunto il prequel delle avventure a fumetti di Jupiter Legacy ed è un titolo comunque assolutamente consigliato di Mark Miller e Frank Whitey mi raccomando lasciate un like e ci vediamo alla prossima ciao